Rovigo, come potete vedere da questo cartello, esiste. Non è vero che a Rovigo ci sono barufanti? Perché Rovigo è città per la pace. Non può essere una città morta perché Rovigo è città per la vita contro la pena di morte. A Rovigo non c'è niente di bello. Vieni che ti dimostro il contrario. Ecco la meravigliosa piazza Vittorio Emanuele circondata da palazzi storici di diverse epoche. Palazzo Nodari, Palazzo Roverella, Palazzo Roncale e Palazzo della Gran Guardia. Piazza Garibaldi con la statua a lui dedicata. Lo straordinario teatro sociale dove si sono esibiti grandissimi artisti come Pavarotti e Maria Callas. La famosa Torre Donà che con Torre Grimani è ciò che resta del castello antico da cui ha preso origine la città. E il Tempio della Beata Vergine del Soccorso il cui interno è interamente ricoperto da dipinti. Viviana tu mi vedi? Ti vedo Canale, tu mi vedi? Io anche. Qua che gira il ponte del Sae. Non era questa una strada. E' il gira la deserto, il fiume di Rovigo. Io ho capito tutto. Anch'io. A Rovigo mi intrigo. Ed è andata benissimo. L'unica cosa che non si deve fare a Rovigo è passare sotto questo arco. Perché questo è l'arco dei bocciati e quindi se ci si passa sotto, bocciatura assicurata. Ma la tradizione è talmente radicata che i rodigini non ci passano mai più per tutta la vita. Ovviamente io e te non siamo superstiziosi e passiamo tranquillamente. Grazie. Grazie. Grazie.